Gentili telespettatori, buona giornata. Andiamo di male in peggio, perché Andrea Giambruno, che ha detto il ciuffetto, ormai viene denominato così, peggiora di giorno in giorno. Ma cosa è successo a Giambruno? Perché si sta mettendo nei casini da solo. Continua a dire delle cose che manco Toninelli, Lollobrigi, Dallarussa messi insieme, se metti insieme Di Maio, Toninelli, Lollobrigi, tutti i personaggi un po' curiosi della politica, questo li sta battendo tutti. Abbiamo visto che ha paragonato gli immigrati agli animali, con la transumanza, poi c'è stato il caso delle discoteche, adesso c'è il caso che si è messo a dire parolacce in un fuorionda, dicendo ma qui dentro sono tutti pelati e mi rompono il bip a me, perché c'ho il ciuffo, io ho 43 anni e c'ho tutti i capelli, qua sono tutti pelati. Quindi ha offeso i collaboratori di Mediaset, qua sono tutti pelati, io a 43 anni c'ho tutti i capelli e il ciuffo. Poi si è messo a fare il piacione, insomma, con la sua collega, come sei intelligente, peccato che è tardi, non sono messo gli aletti una roba del genere, sei intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima? Quindi, allora, parliamoci chiaro, se io ai tempi che lavoravo in un'azienda andavo dalla collaboratrice a dirgli, caspita come sei intelligente, peccato che non ti ho conosciuto prima, ci stavo provando, ci stavo chiaramente provando. come dire, ti stimo, intelligente, mi piaci, sappi che se non fossi stato impegnato, capisci a me, ci siamo capiti? Eh, qua nessuno è nato ieri, nessuno è nato ieri, quindi quando tu dici così a una tua collaboratrice, sei intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, e poi oggi vengono fuori altri fuori onda, però si passa dal fare il piacione, si passa a delle allusioni a sfondo, quello sfondo lì, dici, quale sfondo? Lo sfondo lì, avete capito benissimo. Allora, nuovo caso per Andrea Giambruno, non so la Meloni cosa stia pensando in questo momento, perché siamo passati dal fare il piacione con la collega e fargli capire che potenzialmente lui sarebbe anche interessato, ma caspita, è già impegnato, siamo passati alle allusioni a sfondo, a sfondo, dice perché non completi le parole, perché non completi le frasi, non l'avete ancora capito perché non completo le frasi, non l'avete ancora capito? Eh, quando crescete ve lo spiego. Un nuovo caso per Giambruno, il compagno, forse per poco, di Giorgia Meloni, che conduce Diario del Giorno su Rete4. Stavolta un nuovo fuori onda trasmesso da Striscia alla notizia, il TG satirico di Canale 5, che naturalmente ha ricevuto l'audio da qualche gola profonda. Nel primo momento si vede lamentarsi perché lo criticano per il ciuffo, come vi dicevo prima, e lui se la prende con i collaboratori dicendogli qua sono tutti pelati, io ho il ciuffo 43 anni, qui c'è gente anche che bestemmia, dice, e rompono le scatole a me per il ciuffo, guardano i miei capelli quando c'è gente qua pelata e c'è gente che bestemmia. Quindi è anche rancoroso, è livoroso, attenzione, sembrerebbe quasi vendicativo. E poi si avvicina la collega e dice, l'unico giudizio che conta per me è quello di Viviana. E quindi fai il piacione un'altra volta. Sei intelligentissima ma perché non ti ho conosciuta prima? Quindi l'unico giudizio che conta per me è quello di Viviana. Capite, dopo avergli detto sei intelligentissima, peccato che non ti ho conosciuto prima, ma l'unico giudizio che conta è quello tuo. E insomma. E poi... Ma non è finita, come vi dicevo. Giovedì il TG satirico di Antonio Ricci ha tirato fuori un altro fuorionda. Rivolte sempre, lui che si rivolge sempre alla giornalista, si sente solo l'audio. I due non si vedono nel video, solo l'audio. Diversi gli espliciti riferimenti sessuali. Come vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Noi facciamo le fours home. Tradotto... Non si può tradurre. Poi minimizza. Ma cosa ho detto? Si ride, si scherza, veniamo da una pandemia. Manco stessimo parlando dell'agenzia delle entrate. Di solito quelli che fanno così, come Gian Bruno, quelli che buttano la palla e poi dipende com'è la reazione, no? Allora, come fanno i piaccioni, quelli che ci provano con le colleghe? Cominciano con delle battute, se è intelligente, se ti avessi conosciuta prima, e vedono la reazione dall'altra parte. Dall'altra parte, una ti può guardare anche così seriamente e tu già lì ti ha distrutto, hai capito? Ma sto scherzando, dai! Poi cerchi di recuperare e far finta di niente. Se dall'altra parte vedi che ride, vedi che comunque non c'è un muro, allora poi si passa dai complimenti, se ti avessi conosciuta prima, come sei intelligente. Per me conta solo il tuo giudizio. Da lì poi il piaccione passa alla seconda fase, che è quella delle allusioni. No? E quella delle allusioni, perché poi ce ne sono altre. Sei aperturista? Ecco. Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Sei aperturista? Aperturista? Questo tutto nell'audio che si sente, con queste allusioni a sfondo di quel tipo lì. Quindi, di solito chi fa questo, come vi dicevo, passa alla seconda fase, che è quella, vado giù più marcato per vedere dall'altra parte qual è la reazione. Ma, butto la frase allusiva, ma subito dico, ma sto scherzando, ma dai, siamo dopo la pandemia. Ma cosa c'entra la pandemia? Ma manco fosse l'agenzia dell'entrata. Ma cosa c'entra l'agenzia dell'entrata e la pandemia? Era la reazione del, butto l'amo con l'allusione pesante, però subito dico, ma sto scherzando, ma dai. E' chiaro, giusto? Tutto chiaro? A me spiace, sinceramente per Giorgia Meloni, non sto scherzando, a me spiace davvero per Giorgia Meloni trovarsi in casa al piacione lì col telecomando sul divano. Oggi, con queste scoperte, non deve essere proprio una bella sensazione positiva per il nostro capo del governo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.